La nostra ragazza che adesso la passeremo operaia, l'ape operaia, guardami l'ape operaia. Ma se guarda lei cade. Ok, sei contenta? Sì. Perfetto. Ci sei? Sì. Ok. Dai un pochino l'acceleratore. Tieni appena appena accelerato. Vado senza olio, eh? Vai. Anzi, senza soltanto. Anzi, non stai. Andiamo. Ok? Sì. Sembra che c'è una normale coppa. Dentro non c'è niente. Quando c'è possibilità, Salvador, ti ferma ancora una volta sul lato, quando c'è posto, che io prendo ancora una volta sotto. Sì, sì. Adesso mi ferma dal piazzaletto qua. Il piazzaletto. Per far vedere. Lascia un giro. Lascia un giro. Ok. Il cofano, Tommio. Eh? Proviamo, gli faccia un cofano. Sì, alza anche il cofano. Eccolo qua. Sembra che è lubrificato. Oh, andiamo a Napoli. Andiamo a Napoli. Napoli è un po' esagerato, però. Allora, a Firenze possiamo andare. E siamo ripartiti senza olio. Grazie al famoso Ceramic Power. Al Ceramic Power Liquid è come se avessimo una normale lubrificazione. Velocità di crociera 50 all'ora. Spia dell'olio costantemente accesa. Chiaramente, perché manca olio. Manca la sottocoppa. Modi di ripresa. Ma il motore è 15 minuti in moto. Sì. Ecco. Qui quello che conta è quanto il motore sta in moto senza sottocoppa e senza coperchio delle valvole. In assoluta mancanza di lubrificante. Non accusiamo niente. Adesso andiamo a prendere il raccord anulare di Roma. Temperatura ottimale. Nessun problema di rumore strano. Direzione dobbiamo andare a direzione casa o a direzione... Direzione Napoli, Napoli, Napoli. Direzione Napoli, facciamo il giro. Se tu pensi che è sufficiente andiamo dritto. Ma andiamo lì a Napoli, chi se ne frega. Ma andiamo lì a Napoli. Puoi anche filmare che stiamo rimontando la sottocomma Che mi sono bagnato un'altra volta con l'olio Bevi una goccia? Si lo so Ok Stai vivo ancora? Bene ok Ma questa non è una novità per una donna Basta Levate con l'olio Alzati in buro Bu Senti che siamo a posto Sempre con la ferrarella? Sempre con la ferrarella Come siamo messi secondo voi? Siamo messi molto bene Possiamo andare subito a fare la revisione Abbiamo rimontato la sottocomma Il coperchio delle valvole La pressione dell'olio è ritornata regolare Adesso stiamo andando a vedere se il motore ha subito danno Il motore è più silenzioso che prima Questa è la vapore dell'acqua che si va lentamente via E si vede anche bene Questa è l'acqua Quando io ho fatto la mille miglia Ogni venti chilometri mi ho fermato Per aggiungere un litro di acqua Allora Vediamo se un tedesco è in grado di rovinare la forte Siamo sempre 80 in seconda Sono in seconda a fondo E non cambia Prendimi la seconda marcia No, no, lasciala dentro Con la camera 90 Riesce qua a prendere? Sì, sì Riesce anche a prendere il quattro chilometro Adesso sì Vai, vai, guarda l'altra Siamo in seconda marcia a 90 È un bel cuore ormai Questa è la farzione Questa è in strada Del governo È un bel ruolo Questa è magari Questa è in santo Questa è un bel ruolo L'acqua è una scocciosa Questa è in gradoio Questa è un bel ruolo E la macchina si potrebbe vendere come Novog.